Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Queste le dichiarazioni programmatiche degli organizzatori del flash mob delle Sardine previsto per domani a Sassari, in Piazza Fiume, a partire dalle 18.30. Il movimento di protesta nazionale è già prodato in Sardegna la scorsa settimana con due tappe a Cagliari alla Maddalena, una vera e propria rivoluzione ittica, quella proposta dai fondatori, con l'obiettivo di risvegliare una coscienza politica antipopolista. Nate nel novembre del 2019 come reazione a un comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, programmato a Bologna in vista delle elezioni regionali, le Sardine hanno riscosso da subito un immediato e clamoroso successo, diffondendosi in tutta Italia, da nord a sud. Una presenza di migliaia di persone nella piazza della penisola, creata col tam-tam dei social e che sembra crescere numericamente sempre di più. L'appellativo Sardina vuole rappresentare l'idea di stare tutti stretti stretti, come per appunto Sardine in scatola, e allo stesso tempo silenziosi, in aperto contrasto con quella che viene definita dai dimostranti come retorica populista. L'invito degli organizzatori locali chiama la presenza solo tante, tante Sardine sarde e colorate, dando il benvenuto in mare aperto. Una manifestazione che si vuole pacifica contro il razzismo, l'arsenofobia e l'omofobia e che ha già raccolto su Facebook oltre 11.000 adesioni in meno di 24 ore al motto di La Sardinia non si lega.